Un regalo inatteso, 2000 mascherine chirurgiche sono state recapitate al comune di Tirano provenienti dalla città tedesca di Beblingen. A donarle Stephen Widman, titolare dell'Axitec Solar, azienda dove lavora la tiranese Cristina Lovato che pur da lontano tiene vivo il legame con la città di origine e sapendo della nostra carenza di mascherine si è attivata sensibilizzando il suo datore di lavoro. Di qui la donazione. Un piccolo gesto, ha detto Widman, appassionato ciclista ed escursionista che visitò Tirano nell'estate 2018 e che oggi ha voluto sostenere l'impegno dell'amministrazione in aiuto ai cittadini. Le mascherine, comunica il sindaco Spada, sono state distribuite alle strutture sociosanitarie con fragilità e alle categorie più esposte a contatti. Hanno ricevuto i dispositivi, la casa di riposo e gli assistenti domiciliari, gli addetti ai servizi sociali e la comunità Il Gabbiano, le forze dell'ordine, negozianti e farmacie. Per ricambiare il gesto di generosità e non appena sarà possibile, Spada ha invitato a Tirano il benefattore, che spera di inviare altre mascherine se riuscirà ad ottenerle dalla Cina. In questa fase di stop agli scambi internazionali, commuove e rincuora, conclude il sindaco, vedere che i nostri concittadini all'estero ci aiutano a tenere aperta la nostra finestra sul mondo e a non sentirci isolati.